Una sequenza da film dell'orrore che si scontra però con la cruda realtà. A farne le spese ancora una volta una donna, costretta a subire abusi di ogni tipo dal marito, alla presenza dei figli minori o addirittura quando si trovava in stato di gravidanza. Schiaffi, sputi, calci e pugni, percosse con bastoni o altri oggetti contundenti, il tutto condito da violenza psichica con continue minacce di morte e insulti di ogni tipo. Non solo, la donna era pure costretta a subire atti sessuali e obbligata a chiedere l'elemosina per strada. Alla vittima erano stati persino sottratti documenti di identità e a volte era stata chiusa a chiave in casa per impedirle qualsiasi tipo di spostamento. Questa storia a tinte drammatiche arriva da Messina. Ieri sera i poliziotti delle volanti hanno trasferito in carcere l'uomo, un 57enne, ritenuto responsabile dei reati di riduzione e schiavitù, violenza sessuale, sequestro di persona e lesioni personali ai danni della moglie. La misura è stata resa possibile grazie al preciso lavoro d'indagine delle forze dell'ordine e all'ausilio di personale medico qualificato. L'uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari, con obbligo di braccialetto elettronico per il reato di maltrattamenti in famiglia, è stato trasferito presso il carcere di Castelvetrano.